Quando ho ricevuto questa mail non avevo idea di cosa in cui mi stavo andando a cacciare, ma dopo qualche ora di gioco, devo dire che ne sono piacevolmente sorpreso. Cominciamo una nuova partita. Ultra Meme Adventure. Iniziamo bene. Oh, ma chi è quel mona che sbatte la porta? Ah, ma sei tu! Oh, l'Uganda, io sono Uga. Se vuoi qualche informazione in più sul gioco posso illuminarti con la mia grande saggezza. Sono già studiato, mi permetta. Questo mondo è abitato da creature molto dank chiamate Poké Meme, o Poké Mem se preferite. Esistono migliaia di meme al mondo e di conseguenza altrettanti Poké Meme. A Meme Land troverai quelli più famosi. Anche quelli morti ovviamente. Non conosciamo ancora il reale potenziale dei Poké Meme. E il grande Pepe non ci ha ancora svelato tutti i loro segreti. Ogni giorno sacrifico al suo altare ricchi doni, ma da molte lune non ricevo alcuna risposta. Forse il tuo arrivo sarà l'inizio di grandi cambiamenti. Comunque, sei un maschio o una femmina? Io ho paura di vedere sia il maschio che la femmina. E quale sarebbe il tuo nome? Comunque, mi chiamo Dank. Dunque, tu saresti Dank? Dank, sei pronto? La tua avventura nella sacra terra di Meme Land sta per incominciare. Mi raccomando, prendi questa sfida sul serio e lasciati sorprendere dai mille segreti che troverai sotto cammino. Una terra dove il Politically Correct non è mai stato inventato. Che bello. E dove i Meme proliferano senza temere ban. Ti aspetta. Io non è che odio il Politically Correct, ma è che ce n'è troppo. E quindi un gioco dove non ce n'è, è già qualcosa. Ma io li so dono un'occhiata al mio diario per vedere se mi sono notato qualcosa di importante. Devo smetterla di comprare la birra al discount. Ma è la birra più buona che c'è. Giorno 27. Oggi è una bella giornata. Su YouTube è uscito un nuovo video di PewDiePie e mi ha fatto molto ridere. Quasi come sempre. Chissà se ti sei risercito a superarlo. Spero proprio di no. Bitch lasagna. Quanto è vecchio questo gioco. Ah, è sparita la mia bicicletta nuova. Dannazione. Ok, oggi vorrei andare a trovare mia nonna nella casa qua vicino. Magari sgancia qualche soddino. La buchetta! Ok. Stop! Non muovere un passo! Stop! È more time! Non fai le patate sul pavimento che ho appena pulito per terra. Percorrere i premi Z. Ah! Ma quindi le ciabattine poi me le porto anche per tutta la vita? Nonna, sgancia un po' di soldini. Era da un po' di tempo che non ti vedevo. Ma si abitiamo a due passi. Forse non dovresti stare tutto il giorno a guard... In casa a guardare prank e scherzi di coppia? No! Non lo faccio! Non è vero! Da qualche tempo mi sono accorta che qualcuno si intrufala in casa mia quando sto guardando pomeriggio 5 in tv. E te lo meriti! E sono iniziato a sparire un sacco di oggetti da tutte le case della zona. Vasi, fiori e perfino biciclette. Allora questo è il ladro che ha rubato la mia bicicletta. Investigo io in onnina. Nella grande grotta qua vicino. Ogni tanto, quando esco fuori a prendere di più tv dalla buchetta, mi pare di notare uno stradissimo scherato che mi osserva. Ragazzi, questo gioco è la vita! Beh, forse questo mascherato è responsabile della sparizione degli oggetti che sta accadendo ultimamente. Devo investigare. Oh, ma è professore! Ma cosa? Stara da larga! Col cavolo! Che posto strano! Ah, vado solo. Ma? Che ci fa questa roba? Le fiorine della nonna! Quella è la mia bici! Devo tornare dalla nonna e dirle che ho ritrovato gli oggetti scomparsi. Fermola! Oh, un manico mascherato mi sta inseguendo! Fermati subito! Cosa ci fai nella mia casa? Io, io! Su, stai tranquillo. Non ti farà del male. Però non scappare urlando come se avessi pestato un Lego. Giustamente. Il mio nome è Professor Uga e sono il capo sciamano del mio popolo. Questi oggetti sono stati raccolti per essere usati come decorazioni per compiacere la regina quando la troveremo. Non posso lasciarti andare ora che conosci il nostro segreto. Ma non sono un sanguinario. Quindi ti propongo un patto. Che patto? In cambio degli oggetti del tuo popolo ti darà qualcosa di uguale valore. Ma la musica... Donkey Kong Country! Cavolo! È... Mining... Mining... Terror? Mining Fear? È quella della caverna! Mining... Qualcosa, non ricordo. Però quanto è bella, oh! Non mi veniva in mente. Ad ogni modo è bellissima, cercatela. Vi lascio bene il nome. Queste tre sfere contengono dei meme. Mai sentito parlare di meme? Certo, sono tipo delle battute divertenti che si fanno su internet, no? Sì, ma non solo quello. Qua a Meme Land è possibile catturare questi meme. Chiamati anche i Poké Meme. E farli combattere tra loro. Ah, come i Pokémon? Ehm... Sì, sì, come i Pokémon. Pensa, alcuni possono perfino evolvere se trattati con cura e fatti aumentare di livello. Non per vantarmi, ma io in gioventù ero un mematore di alto livello e ne ho catturati molti. In gioventù? Quindi due anni fa più o meno? Sì, in genere un mimer dura 5-6 anni. Quelli più tosti, gli altri un po' meno, quindi... Sì, ho deciso. Coglierò questa occasione al volo. E duri in avanti farò di tutto per diventare più forti insieme ai miei Poké Meme. Ho deciso, Uga, o come ti chiami. Prenderò questo Meme e mi impegnerò per catturarli tutti e diventare il migliore. Allora, vediamo un po' questi Meme. Ok. Se l'altro è SpongeBob. Lo chiamo Jobro. Confido che non dirò una parola di quello che è successo oggi. E cavolo no. Ma SpongeBob che diventa quello super muscoloso? Vediamo Jobro. Mematore, Denk. Caverna, professore Uga. Uga, Uga, ciacca, Uga, ciacca. E denti stretti. Carino. Potevo anche controllare il Pokédex, o meglio, il Meme Dex, dal menu dei Pokémon. Cosa non sottovalutabile, eh. Vedo che anche tu hai uno di quei brutti Meme, madonnina santa. Che problemi hanno i ragazzi di oggi? Prego, ora puoi passare. Grazie, eh. Ehi, che c'è? No, non la cassa. Voglio solo prendere la Pokéball. Prima di continuare voglio farmi un giretto di... Tu cosa c'hai lì? Niente, questo non si sposta. Uh, attenzione. Cioè, tu con 10.000 iscritti guadagni 40 centesimi al giorno? Cambia lavoro. Mi ha detto che se sono uno youtuber famoso, devo fare pubblicità al gioco, perché ci guadagno. Non guadagno nulla. Comunque sia. Il segreto per diventare famoso su YouTube e vivere di grassa risata alle spalle della società paga la mossa. Comunque sia, mi ha detto questa signora, se vedi un ragazzino con le guance paffutelle, digli che è pronta la merenda a casa. Ehi, stupido, è pronta la merenda. Mi mando tua mamma per dirti che la merenda è pronta. Cosa, la merenda? E allora vado, la merenda mi chiama. Ma è mago. La meme ball. Se me lo guardano almeno mille persone, forse 50 centesimi, forse. Ok, questo qua è rimasto 13 giorni dormendo, si sa, si è mangiando radici per raffinare la forza del mio meme. Ha un doge. O doge, chiamatelo come vi pare. Mematore Gennaro. Ma che roba, ragazzi. Ma che robina. Sganasciata, colpetto. Puro orgoglio. Lo tocca per aumentarsi l'attacco? Questa anche l'ho sentita da qualche parte, questa host. Ma non me li ricordo tutte, ragazzi. Non so che Pokémon era quel suo verso. Hai barato. Va bene. Se lo dici tu. Salve. Un meme selvatico! Quanto lo odio questo! No, dovevo curarmi, lo sapevo. Mematrice Claudia. Però che sprite in alto definizione. Strano. Devo curarmi, Giobro. Perfetto! Oh, foglia ninja. Oli Uganda! Brutto colpo, eh, ci credo. Sarà efficace? Normale, un danno normale. Non ne togli un bel po' foglia ninja, eh. Non fallire! Meglio lasciare le meme. Tu mi odi, eh. Oh, percorso 1. Info. No, niente. Beh, allora fatti un gi- Donne. Giusto? Fermo, mematore. Oh no, un altro alienatore di Poké Meme. Ma devi un po' di entusiasmo. Stiamo per affrontarci a colpi di meme per decretare chi è il migliore. Ma tu come lo sai che sono un mematore? Beh, se avessi un lavoro vero non staresti a perdere tempo in giro per la foresta ma staresti studiando e lavorando per il tuo futuro. Non fa una piega. Mi ha sgamato, sono un mematore novizio. Ok, eh, sono Pixel e ti informo che... Ready Pixel? Può essere Ready Pixel? Ma dai, la canzone del Wii! Wii Shop, dai! Che cosa mi hai tirato fuori? Ma Doggo? Ma è Shiny, forse? Ho perso! Brutto colpo! All'Uganda! Spero che non abbia altre pozioni perché così almeno lo faccio secco. Perfetto, è andato. E Bug's è andato. Livello 9. Sono un Pigliameme semplice. Ho il classico Pokémon scarso che usa mille bave. Cosa è successo qui? Qualcuno ha rubato le travi del ponte. Così di là non si può andare. Andiamo di qua. Wow, cos'è lì? Bosco di BB. Che succede qui, oh? C'è l'oro? Uomo Sole. Io sono il fantastico Uomo Sole. Lode al Sole! Quindi sei solo l'ergia storia. Non credi anche tu che il Sole sia la cosa più bella del mondo? Allora unisciti con me alla lode del grande Sole! Visto che roba? Sto aspettando il mecerrimo rivale e l'uomo Luna. Questo gigantesco sorcio in realtà è un esemplare di Mr. Boombastic. Ma dai! Servirebbe qualcosa di potente o poco orecchiabile. Nessuno dei vecchi vinili che avevo sembra sufficiente a svegliare sto ratto. Quindi dovrei trovare una canzone o un vinile che possa svegliarlo. E Blobfish! Mio Dio! Ma quanti anni fa era Blobfish? Tu! Non puoi! Passare! Ok. No! Sta per iniziare i Gumball! Scritto male, però. Thomas il treno! Incredibile! Ad ogni modo, Kuge, questo è Ultra Meme Adventure. Non lo giocherò tutto però abbia ragioni. Ad ogni modo, se volete provarlo vi lascio il link in descrizione al... del canale originale e anche del gioco. Così magari date un'occhiata sia al canale sia al gioco che... merita. Devo dire che merita. È molto curato nei testi e soprattutto nei meme ci sono tante Acrom che partono con dei buoni propositi ma poi si perdono a metà strada e invece questo sembra che comunque sia mantenga o mantenga l'asticella alta per tutto quanto la durata del gioco. In genere dopo i primi dieci minuti di gioco la Acrom inizia a essere un letamaio invece questa ancora regge quindi può essere che tutto il gioco sia apprezzabile. Alla ogni modo vi lascio nella descrizione del canale il link alla pagina di Ultra Meme Adventure del canale e anche quello del download. Date supporto a questi creatori che non lucrano assolutamente su questo tipo di contenuti di livello medio alto quindi mi raccomando massimo supporto per il creatore e per tutti quanti gli addetti ai lavori. E come sempre vi ringrazio per aver seguito il video spero che vi sia piaciuto in descrizione trovate anche il link di Instagram dove pubblico tutti quanti i aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti a noi ci vediamo come sempre nel prossimo video bye bye ciao a tutti 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 ciao a tutti